Secco, secco, devi mangiare! Mangiati il kebab! Il kebab di Giovanni Fo... Madonna, ma hai visto? Ho le patatine fritte dentro, che fame che avevo conto lo guarda! Ma che cazzo è il kebab? L'unico animale che nasce già con un palo nel cu! Giovanni, ma che fai? Ma perché stai in 83? Giovanni, devi mangiare, ma te non piace mangiare, Giovanni! Oggi andremo a reagire alla gara di uno dei food vlogger più conosciuti in Italia, nonché Giovanni Foist. Però, fermo, 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 fermo. Per voi che siete iscritti al canale da tanto tempo, che mi seguite da sempre e non siete qua solo per la reaction al video di Giovanni, rimanete fino alla fine perché ci sono delle news importantissime riguardanti il canale, riguardanti il mio percorso, che non posso ancora spoilerarvi, ma vi dirò appunto a fine video. Ora, andiamo con ordine, pensiamo un attimino alla gara di Giovanni, andiamo un attimino ad analizzarla nel dettaglio per capire cosa è successo, cosa ha fatto e cosa farà in futuro. Giovanni ha gareggiato nella categoria meno 83 kg. E già qua è un passaggio importante da tenere a mente per la restante parte del video. Infatti, questa categoria non è la sua di appartenenza, ma è stata una scelta sua, personale, fatta in vista del suo matrimonio, che avverrà appunto da qui a un prossimo futuro molto vicino, intorno a settembre. Quindi ecco, la sua scelta è stata dettata più che altro da un motivo personale e non rivolto puramente alla performance. Per Giovanni questa non è assolutamente la prima gara, infatti per i veterani del suo canale sapranno benissimo che un tempo lui gareggiava nel powerlifting e i suoi massimali storici sono 220 kg nello squat, 147,5 kg nella panca e 232,5 kg nello stacco. Quindi al tempo, quando gareggiava Giovanni, comunque era un total di tutto rispetto. Ora, ovviamente il livello si è alzato molto, ma ciò non toglie che lui al tempo era un ottimo atleta. Giovanni, ma che fai? Ma perché stai in 83, Giovanni? Devi mangiare, ma te non piace mangiare, Giovanni? Ti deve piacere! Partiamo quindi col botto dallo squat. Premessa, è un'alzata dove io e l'allenatore di Giovanni abbiamo due visioni abbastanza opposte dell'alzata, quindi mi raccomando, no hating nei commenti. Io dirò semplicemente la mia opinione, non voglio vedere gente che insulta, fa disfasi, prendono a coltellate. Calmi. In squat, iniziamo con un 215 kg in entrata, ovviamente essendo un'entrata ci aspettiamo che sia facile, e così è stato. Proseguendo sulla seconda chiamata, dove iniziamo a vedere qualche tentennamento, a 225 kg, però anche qui, a un occhio non esperto, è stata un'alzata fluida. Ovviamente il calo peso l'ha cucinato parecchio, e in questo caso già si inizia a vedere. Alla terza chiamata di squat, dove fallisce 230 kg. E qui, la mia opinione, che ripeto, è solo unicamente la mia opinione, non voglio fare quello che spiega come si fanno le cose. Porca miseria, non dovete rompermi i coglioni o vi tiro... Cosa gli tiro, Luca? Che cazzo gli tiro, Luca? Una pizza fritta ti tiro, Luca, porca... Porco Dina. Qualche modo poteva magari potenzialmente risolvere questa sua carenza, perché si è proprio visto che si è spento di botto, ok? Come se fosse mancata una parte muscolare di schiena e di gamba abbastanza importante. Ora, so che la scuola di pensione a cui proviene di Giovanni dice appunto di rimanere sempre su una linea perfetta dello squat, non sporcare l'alzata e via dicendo. Secondo il mio punto di vista, in questo caso, dato che se è inchiodato proprio lo sticking point, poi, come dirà Giovanni, anche perché è uscito un pochino dalla traiettoria, avere un pochino più di muscolo lo avrebbe aiutato a grindare contro lo sticking point e probabilmente, perché non abbiamo una certezza, ma solo una buona probabilità, Giovanni magari avrebbe chiuso questa alzata. È la mia visione di squat, quella di avere anche una componente muscolare più massiccia, dove si può anche sporcare l'alzata per eventualmente andare a chiuderla. Ripeto, è la mia visione personale. Per te che mi stai per insultare nei commenti, ti do una pizza fritta. Il kebab di Giovanni fa... Madonna, ma hai visto? Ho le patatine fritte dentro, che fame che avevo conto a guardare. Proseguiamo con la panca piana. Qua generalmente gli atleti di powerlifting si riposano e abbiamo visto che anche Giovanni si è riposato. Ma potrei fare una battuta del tipo che non si sa per cosa si è riposato, visto come è andato poi lo stacco, però io a Gio li voglio bene, quindi farò finta di niente. Però, insomma, Giovanni entra a 147,5 kg, nonché appunto il suo PR storico, il massimo che lui avesse mai fatto in panca. E devo dire, un'alzata molto solida, fatta bene, pulita, precisa, nulla da dire. In seconda prova chiama 152,5 kg. Anche qua, alzata comoda, pulita, eseguita correttamente, non c'è nulla da dire a livello tecnico, che gli dobbiamo dire, bravo Giovanni. Mentre in terza chiama 5 kg in più, 157,5 kg. E sfortunatamente ci rimane sotto. Qua devo fare un appunto, non inerente troppo alla panca piana, ma a una cosa che ha detto Giovanni poi nel video, che ha già detto anche nello squat. Si è appellato al fatto che avesse fallito l'alzata perché ha perso traiettoria, perché si è scomposto. A me questi discorsi, oggettivamente, fanno sorridere. Ovviamente, ripeto, nulla contro Giovanni che ha detto questa cosa. È proprio il discorso in sé, come argomentazione generale che si sente dire spesso dai powerlifter. Quindi, e ho fallito lo squat perché sono uscito dalla traiettoria, e ho fallito la panca perché ho perso ar. Queste motivazioni reggono poco, perché nel powerlifting row, soprattutto, dove non abbiamo delle componenti tessili che vanno a modificare la traiettoria delle nostre alzate, è tutto a carico nostro, è tutto a carico nostro muscolare. Quindi, il mantenere una posizione solida in panca, il mantenere una linea buona in squat, è tutto correlato a quanto noi siamo forti per rimanere in quella posizione. Quando sentiamo dire il nostro amico che ha appena fallito il massimale in palestra, se non fossi uscito di traiettoria l'avrei fatto? Sì, se non fossi uscito di traiettoria l'avresti fatto, ma perché sei uscito di traiettoria? Perché non sei stato abbastanza forte per rimanere lì, per mantenere quel setting. Quindi, in questo caso, il fail non è dovuto a un errore tecnico, è dovuto al fatto che, giustamente, Giovanni, per motivi vari, per il taglio peso, perché magari non era pronto per quel carico, semplicemente non è stato abbastanza forte per mantenere una posizione corretta o una posizione che potesse fargli svolgere l'alzata con la tecnica a cui lui è abituato. Tutto lì, semplicemente, bisogna dirlo, ragazzi, bisogna smettere di vergognarsi. Quando si fallisce un'alzata, tranne salvo casi particolari, è perché non si è stati abbastanza forti per farla. Secco, secco, devi mangiare! Mangiati il kebab! Ma che cazzo è il kebab? L'unico animale che nasce già con un pallone in cu. Ma che cazzo è il kebab? Ora arriviamo alla terza alzata, quella per cui si sarebbe dovuto riposare in panca, che però mi sa che non si è riposato... Scusa, Giovanni. Non si è riposato abbastanza. No, dai, scherzi a parte. Teniamo lo stacco. Purtroppo qua parte veramente sfortunato, perché oltre a dei problemi che lui ha detto molto esplicitamente nel corso della sua preparazione, che ha avuto al ginocchio, quindi che ovviamente non gli hanno consentito neanche di allenare l'alzata come avrebbe voluto fare, in all'riscaldamento gli si apre pure un caldo nella mano. Quindi, diciamo, la situazione più sfigata per fare stacco ce l'ha avuta sostanzialmente. Quindi, in questi casi, c'è poco da fare. Si deve stringere i denti e provare a fare le alzate nel miglior modo possibile. Infatti, Giovanni entrerà a 240 kg, alzata incredibilmente solida, comunque svolta, diciamo, bene. 10 kg circa, 7,5 kg sopra il suo PR storico di 230,5 kg. 32,5 kg, mannaggia la miseria. E quindi già comunque è un buon risultato, perché è un PR comunque per lui. Già dalla seconda prova iniziamo a vedere dei problemi, quelli che si sente dire in Formula 1 problemi, problemi, problemi per Vettel. Allora, cosa succede? 255 kg in seconda chiamata li prova a fare, solo che in chiusura vuoi per problemi di traiettoria, vuoi per problemi muscolari, vuoi per problemi durante la partenza, perde l'equilibrio in chiusura ed è costretto a mollare il bilanciere, quindi non rispetta il giù dell'arbitro e l'alzata viene decretata nulla. Nonostante lui comunque abbia avuto la forza per sollevare quei chili, però purtroppo l'alzata è stata decretata nulla perché ha dovuto mollare prima il bilanciere. In terza prova, giustamente qua, una situazione in cui Giovanni non si stava giocando nulla di particolare, ha preferito rialzare su una seconda prova fallita, ha chiamato 260 kg, che anche qua purtroppo ha fallito. In questo caso si è vista più che altro una vera e proprio carenza, secondo sempre la mia opinione, dovuta anche a un fattore muscolare, perché quando è arrivato nella fase di chiusura, ha superato il ginocchio, addirittura ha provato a infilare con le ginocchia, per poi ovviamente di nuovo fallire l'alzata ancora perché ha perso l'equilibrio. Quindi diciamo che su questa alzata, giustamente non ho troppo da dire perché comunque Giovanni ha avuto dei problemi al ginocchio, quindi già questa cosa qua non l'ha fatto preparare bene e non ci può dare un chiaro quadro complessivo della situazione. Però, c'è un però, io so già che tu dietro lo schermo direi ok, ma tu che lo stai criticando, come risolveresti la situazione? Cosa faresti di concreto per farlo migliorare sotto questo punto di vista? La mia risposta per i veterani del canale sembrerà scontata, sembrerà noiosa, ma Giovanni potrebbe fare una cosa intelligente in questo caso, chiudere le gambe. Chiudete le gambe, non fate su, fate regular. In questo caso Giovanni, come detto, secondo me ha delle evidenti carenti muscolari che già si evidenziavano un po' nello squat e nello stacco proprio sono state proprio sparate per aria. Con uno stacco regular e ovviamente una dovuta selezione degli esercizi complementari, potrebbe risolvere delle ottime carenze che ha e raggiungere dei grossi risultati, diventando più grosso, più forte e successivamente in un futuro non troppo lontano ma nemmeno così vicino reinserire il sumo, lavorarci tranquillamente e portare a casa grossi chili. Se iniziasse a lavorare ora sul regular, io personalmente non glielo farei fare, lo stacco sumo nella gara di ottobre che lui ha detto che vuole fare. Però, ovviamente, parere mio. Ora ragazzi, scherzi a parte, io con Giovanni ovviamente mi sento, sono in buoni rapporti, ci vedremo anche prossimamente. Tutta la reaction che è stata fatta al suo video non è stata fatta in mala fede, quindi non preoccupatevi, non c'è hating, ci sono delle battute sì, ma perché si scherza, lo sapete benissimo. Il mio obiettivo è quello di portare in alto lo sport e quindi mostrarvi le reaction a altri personaggi per far sì che si espanda il mondo del powerlifting anche a chi magari non l'ha mai conosciuto, sia con le gare, sia con delle reaction un pochino più divertenti e via dicendo. Ora però, per chi fosse stato qua solo per vedere il video sulla reaction alla gara di Giovanni, la reaction è finita qua. Mentre per chi è un affezionato del canale ed è curioso di iniziare a capire cosa stavo dicendo all'inizio video, beh ragazzi, qui dietro c'è un pacco che già è uno spoiler enorme, infatti so già che qualcuno proverà a zoomare tantissimo per capire cosa c'è, perché sullo nastro adesivo c'è proprio il logo del brand, ok? È una di quelle cose che io onestamente non avrei mai pensato in vita mia di arrivare a fare, è una roba che mi rende incredibilmente orgoglioso tra l'altro, perché ci sono anche altri fattori dietro al brand che comunque mi rendono così orgoglioso di collaborarci. Non vi posso ancora dire esattamente chi è il brand, a chi appartiene e cosa fa, però vi dico che è una roba in cui credo tanto, cioè veramente ci credo, è una cosa che comunque fino a qualche anno fa non avrei mai fatto, però ora invece ci credo tanto, cioè ci credo veramente, veramente tanto, soprattutto perché conosco il proprietario di questa azienda, è un ragazzo, quindi è un ragazzo giovane, e io stesso da imprenditore ho deciso di dargli fiducia, perché so cosa vuol dire quando sei da solo a fare la tua roba e nessuno decide di darti fiducia. In questo caso per me è stato veramente un passo avanti, si aprono grossissime opportunità per entrambi, grossissime opportunità ovviamente anche per voi, io vi dico, state pronti perché settimana prossima con il video che uscirà domenica vi annunceremo questa collaborazione veramente importante, veramente grossa, vi daremo tutte le notizie varie, vi spiegheremo il perché della decisione, il perché di tutto, ok insomma, vi spiegheremo tutto, vi dico solo che ve lo ripeto anzi, è una di quelle cose che mi gasa tantissimo e per chi mi segue su Instagram lo sa oggi ho addirittura fatto una storia parlata che io non faccio mai storie parlate perché non è il mio insomma, però è una roba che mi gasa talmente tanto che mi ha messo così tanto hype addosso finalmente qualcosa di che crea tutta questa situazione che cazzo, una roba nuova, una roba fresca finalmente, una roba che mancava secondo me, una roba che serviva, è un passo avanti importante per tutti, state pronti, domenica prossima vi spiegherò tutto, vi spiegherò tutte le motivazioni con calma, potete farmi tutte le domande che volete che io sarò felicissimo di rispondere a tutti perché sono veramente, veramente uforico. Rack a gabbia, solidissimo, panca da competizione, dischi omologati da competizione e una vastissima gamma di bilancieri, tutto questo mi ha permesso di qualificarmi a un mondiale e un europeo, quindi dato che anche tu vuoi allenarti con attrezzatura professionale, corri su Stranshop, codice sconto, lista risparmia e allenarti come un professionista.